a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora oggi è il compleanno di gabriele e quindi come le tradizioni può fare quello che vuole diciamo più o meno però prima deve assolvere un dovere stamattina deve andare a catechismo e poi a messa quindi giocherà poi quando torna nel frattempo la mamma preparerà tante cose buone per gabriele cosa vuoi dire vuoi dire qualcosa gabriele che oggi compi 11 anni vado a vedere il regalo subito lo apri oggi se no ti picchio lo apri oggi non puoi aprirlo adesso perché perché no quindi adesso vado a svegliare gli altri così si preparano per andare a catechismo e io inizio vabbè dopo la messa inizia dopo e io e intanto vado a sistemare inizio a preparare se no non ce la faccio e poi ovviamente venite con me ci sono tante cose da preparare per prima cosa vado a sistemare questo casino perché ieri con la live e giorgia che diciamo non aveva voglia è rimasto tutto così io poi finita la live ero veramente stanchissima più aveva sonno e quindi vado a sistemare questo e poi iniziamo a preparare appunto tutto quello che c'era a preparare e la sistemazione di questo la vedrete nel video delle pulizie prima cosa vado a preparare per prima cosa vado a preparare questa la vedrete nel video Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con questo vado a preparare la base per la cheesecake. Grazie a tutti. 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 Guarda, guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. , a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 grazie a tutti.